Eccoci alle previsioni per il fine settimana sulla regione. In quota vediamo scorrere dall'Atlantico correnti occidentali che però in quota non sono particolarmente umide, mentre nei bassi strati sull'Adriatico insiste aria umida da cui per domani una giornata di bel tempo sui monti e anche sull'alta pianura, più nubi invece su bassa pianura e costa dove saranno possibili di notte anche delle foschie. Temperature minime intorno allo zero per quanto riguarda la pianura, ben più caldo sulla costa. Temperature massime tra 10-12 gradi. Vediamo che lo zero termico è piuttosto alto a livello di 2300-2400 metri circa. Per domenica ancora bel tempo in montagna, cielo sereno poco nuvoloso e così probabilmente anche sull'alta pianura, mentre sulle zone di costa e sulla bassa pianura avremo un cielo in genere variabile con maggior nuvolosità in genere nel pomeriggio e in serata. In serata la nuvolosità arriverà anche in pianura e sui monti per un peggioramento dato da una perturbazione che arriverà lunedì, da cui lunedì cielo coperto specialmente sulle zone orientali dove avremo piogge in genere moderate, localmente più abbondanti nella zona di Trieste. Neve in montagna oltre mille metri circa, probabilmente fino a 700-800 metri circa nel Tarvisiano dove la precipitazione potrebbe essere moderata, più debole invece verso le montagne occidentali. Temperature massime intorno ai 10 gradi in pianura, qualcosa in più per quanto riguarda la costa. La perturbazione se ne andrà nella notte verso martedì, da cui martedì un miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso sotto la regione, venti sostenuti e freddi ad alta quota, il freddo ancora però non si sentirà in pianura, lo sentiremo la notte dopo quando appunto il vento si calmerà. Dall'Osservatorio Meteo regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.